Sì, buonasera a tutti. Abbiamo avuto via ieri pomeriggio il terzo trofeo Libera Caccia, organizzato la sezione di Faggiano Libera Caccia, che prevede un percorso di 25 piattelli. Il torneo si concluderà nella giornata di odierna con la premiazione a cura del sindaco e da componenti dell'associazione. Il torneo si sta scolgendo nel complesso comunale di Torricella e numerosi sono stati partecipanti all'evento, alla manifestazione. Un torneo atipico per quanto riguarda il tiro a piattello perché vede un percorso alquanto difficile, almeno detto dagli organizzatori, con l'interesse di numerosi partecipanti, atleti partecipanti a livello nazionale. Sì, buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Arriva. Vai. Nooo, l'ho visto bene eh Vai E' meglio, meglio che piace eh 1 1 Espiral Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.